Dal punto di vista metodologico è la capacità di integrare un'indagine di natura campionaria, ma campionaria in senso ampio, quindi un campione di 280.000 imprese, quindi un campione diciamo enorme, che consente quindi di avere una grossa affidabilità dal punto di vista dei risultati, anche dettagliati. E combinare questo tipo di informazioni provenienti dal campione con delle informazioni che provengono dai registri delle imprese. Le due cose insieme consentono di definire una fotografia complessiva, che è ovviamente molto dettagliata e anche appunto come dicevamo particolarmente aggiornata. Quindi questo dal punto di vista metodologico. Dal punto di vista dei risultati, beh, l'avere a disposizione un materiale informativo molto chiaro, evidente, esplicativo per le imprese e per chi vuole conoscere la realtà produttiva italiana e indubbiamente averlo a tempi ravvicinati, è certamente un risultato estremamente importante.